Ehi, amico, vuoi giocare a casa mia? Sì, sì, amico, mi piacerebbe, so cosa sono i videogiochi Ho appena comprato il nuovo Super Fighter 27, lo conosci? Sì, amico, ci gioco tutte le volte Il 27 è tipo un classico Io giocavo quello con la pistola e tipo... Oh, cavolo! Questo gioco non ha tipico la pistola, ha solo spadaccini Sì, 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 volevo dire con le pistole e le spade sono praticamente la stessa cosa, no? Ok, amico, scegli il tuo personaggio e siamo pronti a lottare Prenderò Glocknark, non è tanto forte, ma conosco qualche combo con lui Sì, fra, sembra molto forte Come si tiene sto coso? Quale personaggio sceglierai? Ah, non lo so, ci sono così tanti personaggi Avanti, pensa, pensa, scegli qualcosa Questo tizio menù sembra molto forte Sì, per aver scelto un personaggio così forte pensare a che sono un pro gamer Amico, lo sai che quello non è un personaggio, è solo un menù, giusto? Cazzo, avanti Terry, puoi fare meglio di così, puoi farcela Certo amico, scherzavo, prenderò il mio personaggio preferito, impostazioni Certo amico, scherzavo, prenderò il mio personaggio